La festa dell'arma, celebrata oggi in ogni capoluogo di provincia, è anche un'occasione per esporre una breve sintesi del lavoro svolto durante l'anno e guardare al futuro con un approccio tesa a migliorare progressivamente la qualità del nostro servizio, traendo insegnamento dagli errori, senza esaltarsi per i successi conseguiti e soprattutto privilegiando sempre la cultura dell'essere piuttosto che dell'apparire. Come abbiamo sentito dallo speaker, l'arma dei carabinieri è presente nella provincia di Pugno con un dispositivo molto articolato di cui fanno parte quali sedi di maggiore prossimità, 75 stazioni carabinieri e 14 nuclei carabinieri forestali. Un apparato capitale che sommando capacità operative e umana sensibilità ha l'obiettivo di assicurare vicinanza al cittadino nell'ambito di un modello di coordinamento che vede in questa provincia una particolare efficacia grazie alla guida autorevole, attenta e perfetto e alla costante disponibilità dei vertici e delle altre forze di polizia ai quali in questa circostanza voglio rinnovare i miei sentimenti di sincera gratitudine e di stima.